Bisogna dare continuità all'importante lavoro di bonifica effettuato in via Ricadi dove tonnellate di rifiuti abbandonati ostruivano il passaggio. A chiederlo il consigliere Capitolino Giovanni Zannola che spiega i cittadini di Centrogiano non possono correre il rischio di una nuova emergenza igienico-sanitaria e di viabilità. Nei mesi scorsi ho depositato un'interrogazione per chiedere l'installazione delle telecamere di videosorveglianza ma siamo ancora in attesa di risposte da parte dell'amministrazione. Nonostante le ripetute segnalazioni dei cittadini e del locale comitato di quartiere denuncia Leonardo Di Matteo della segreteria del PD romano ci è voluto quasi un anno per ottenere la rimozione della mega discarica. Per mesi i residenti sono stati costretti a convivere con il degrado e con il timore di incendi che avrebbero potuto compromettere il funzionamento dell'impianto di sollevamento a CEA o minacciare direttamente le abitazioni nonché la riserva naturale del litorale. Nei giorni scorsi ci sono arrivate segnalazioni in merito alla formazione di una nuova discarica, aggiunge Margherita William, consigliera PD del decimo municipio. Bisogna fornire risposte serie e durature alla comunità di Centrogiano. Per questo ho depositato una mozione da discutere nei prossimi consigli municipali con la quale si chiede l'attivazione dell'iter burocratico per installare le telecamere in via Ricadi.